Grazie a tutti. Vi nota che in Sicilia nonostante il coronavirus ci dedichiamo a un argomento importante, le malattie a trasmissione sessuale che coinvolgono migliaia di persone e che vedono in Sicilia gli indici purtroppo in crescita da molti anni. Noi abbiamo messo insieme tutte le aziende sanitarie della regione, tutti gli ospedali, il mondo della formazione grazie alla sinergia e alla collaborazione con l'assessorato e l'istruzione della regione. Saranno giornate intense nelle quali chiunque vorrà a titolo esclusivamente gratuito potrà andare a sottoporsi a un test, verificare la presenza di eventuali malattie, essere assistito psicologicamente, ricevere della formazione soprattutto per i più giovani.